Il Comizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Il Comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Il Comizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Ben ritrovati con Il Comizio.it, ospite Riccardo Este. Ciao Fabio. Ciao, parliamo ancora di calcio. Lo facciamo in questo momento di campionati europei e di vacanze del campionato italiano. un campionato italiano che sta vivendo un momento particolare, francamente difficile, sia per la pandemia sia per una condizione storica dei grandi club, soprattutto di questa... Sì, il calcio italiano sta pagando sicuramente la pandemia, l'assenza del pubblico dell'anno scorso, sono mancati tantissimi incassi, l'Inter ad esempio è sotto di, solo dagli incassi da stadio, di 70-80 milioni di Euro. Dunque sono soldi, sono guadagni importanti che sono mancati delle casse delle società. In più davvero si fa fatica a far mercato, ci sono degli ingaggi altissimi da parte dei calciatori che scriteriatamente le società hanno firmato, perché comunque bisogna essere... Poi continuano a firmare. A firmare, cioè io sento un Inter in grandi difficoltà economica e poi dà 5 milioni di Euro a Scialanoglu all'anno, quando il Milan ne avrebbe dati 4 e lui forse sarebbe anche accontentato. Cioè mi sembrano, la Juventus avrebbe preso tranquillamente Donnarumma a 7-8 milioni di Euro all'anno, ne dà tuttora 37 a Cristiano Ronaldo, cioè alla fine tutta questa crisi, ecco, l'Inter dava 7 e mezzo a Eriksen, 7 e mezzo a Sanchez, la Roma non so quanti dà a Dzeko. Cioè la pandemia è vero, ha evidenziato un grande problema, ma il problema c'era già da prima, cioè in Italia i grandi calciatori non vengono se non a fine carriera. Non possiamo permetterci un De Bruyne, non possiamo permetterci Messi, giocatori degli ingaggi forti, possono venire solo a fine carriera quando magari il prezzo del cartellino o il prezzo dell'ingaggio è sceso. È un problema perché questo sarà un mercato fatto solo di scambi in mezzo a tanti problemi, primo fra tutti il problema dell'Inter che dice di non avere liquidità economica, è arrivato questo prestito di 270 milioni dagli americani, da questo fondo americano, di cui 70 utilizzati, 75 e gli altri 200 sono lì congelati, perché di fatto l'Inter è stata commissariata da questo fondo americano che ha messo le zampe sul 30% delle quote societarie e se l'Inter non onorerà questo prestito, perché si tratta di un prestito, non di un regalo, l'Inter può essere negli americani. Io ero molto scettico sull'azionerato popolare, sull'Inter, su questa azionerata popolare, sull'Inter SPAC di Carlo Cotarelli, però devo dire che sta prendendo sempre più forma e forse potrebbe essere sul modello del Bayer una soluzione. L'idea è francamente interessante e anche affascinante, la domanda è quella che si fanno tutti, fin dove può arrivare. E poi uno economicamente, poi sai è sempre meglio, secondo me, sia uno a comandare gli altri, chi comanda alla fine, il proprietario di tutto l'Italia, non so, il modello del Bayer è funzionato, in Italia funzionerà lo stesso, è tutto da vedere, però certo che l'Inter deve uscire da questo limbo, i cinesi devono assolutamente, dico i cinesi, insomma il gruppo Suning, la famiglia Suning deve uscire da questa situazione in imbarazzo perché un giorno vogliono vendere, un giorno vogliono guadagnarci, un giorno vogliono fare lo stadio, un giorno vogliono vendere tra giocatori, e alla fine il tifoso dell'Inter merita rispetto, merita assolutamente rispetto, sono venuti qua, hanno alzato la Coppa dello Scudetto e poi ci dicono che no, non so, ora vediamo uno, due, tre, vediamo un po' che succederà, Conte di fatto è stato licenziato perché se no non dà una buona uscita a un allenatore che se ne va lui, no? Lui stesso ha detto mi sono preso un anno non voluto di vacanza, dunque è stato licenziato perché voleva dire che non gli era stata garantita una continuità nel progetto, sta facendo i miracoli nell'Inter, non è che voglio parlare solo dell'Inter, però insomma... No, beh, diciamo che è un po' il caso più emblematico, il caso emblematico di come la società di calcio, sotto diversi aspetti, vivono un brutto momento, ma Notta sta facendo i miracoli, perché quello che è riuscito a fare, è restituire Ericsson a parametro zero, andrà a prendere Cerenoglu che comunque è un giocatore che a rendimento della mano era superiore addirittura ad Ericsson alla passata stagione, è vero che Ericsson in giro in andata non l'ha praticamente giocato, però comunque Cerenoglu è un ottimo giocatore, a parametro zero, certo un ingaggio alto, importante, però comunque è andato a prendere il sostituto in due ore. Dunque complimenti a Marotta che sta tenendo a galla l'Inter e della garanzia per i tifosi dell'Inter, per il resto il gruppo Sinini deve assolutamente fare chiarezza, deve decidere cosa fare, insomma, vendere, non vendere, ma in tempi brevi. Per chiudere sull'Inter, Simone Inzaghi, una buona scelta. Io avrei tenuto Conte, perché comunque è la natura che ti fa vincere, con un Inter così forse la prossima nemmeno Conte sarebbe uscito nell'impresa di vincere ancora lo scudetto. Tra Simone Inzaghi e Allegri, Simone Inzaghi ti dico, perché Allegri poi alla fine se l'avesserebbe sempre stato negli occhi dei tifosi dell'ex Juventino, Inzaghi ha dimostrato a Roma con la Lazio, deve aver fatto bene, nonostante un presidente ingombrande come l'Otito, ha ottenuto due qualificazioni alla Champions, non sono poche, una l'ha persa anche per un punto contro l'Inter proprio, ha vinto dei trofei, è un natore emergente, giovane, lo volevano anche grandi squadre, io dico sì, Simone Inzaghi. Detto questo, l'Inter però l'anno prossimo, secondo me, non concorrerà per vincere lo scudetto, perché sicuramente, quasi sicuramente da quello che si sente, da questa campagna acquisti uscirà indebolita. Rispetto alle altre che invece si rafforzeranno, perché Roma e Lazio hanno preso due allenatori importanti, soprattutto la Roma, Murigno a livello mediatico, a livello anche di empatia verso la città, verso la piazza, darà qualcosa in più, e la Roma sicuramente farà meglio rispetto alla passata stagione, così come la Lazio con Sarri, insomma si pensa al grande gioco del Napoli e tutto. La Juventus, peggio di quello che fa da l'anno scorso non può fare, c'è il ritorno di Allegri che cambierà molto la squadra e ritornerà competitiva. E poi c'è un Milan che attualmente è la squadra che ha speso più di tutti, ha speso 43 milioni di euro sul mercato. È vero che ha perso dei giocatori importanti, ha perso a zero e questo potrebbe influire sul bilancio, però è una squadra che l'anno prossimo sicuramente vorrà migliorare il suo secondo posto. Ecco, abbiamo parlato della situazione societaria dell'Inter, quella del Milan che, insomma, non se ne è parlato tantissimo, si danno per scontate molte cose, in realtà è di proprietà. Di un fondo americano che qui ovviamente ragionano con i conti alla mano, cioè se è un numero loro devono rientrare alcune spese, devono rientrare alcuni investimenti, e non mi interessa se è Donnarumma che è esordito a 16 anni nel Milan, cioè a certe condizioni non ti viene rinomato il contratto, rischio di perdere, infatti non perdo, ti perdo a zero ma io non sto alle condizioni tue e del procuratore. Lo stesso è successo con Scalanoglu e potrebbe accadere lo stesso anche con Chessi, cioè loro vanno avanti per l'orostrada, hanno una linea da seguire, non stanno a ricatto di nessuno e vanno avanti così, però il Milan attualmente ha perso due giocatori importanti e rischia l'anno prossimo di perdere Chessi, che è stato un po' l'anima del centrocampo milanista per tutta la stagione. Certo, e proprio a livello di salute in prospettiva, di salute finanziaria della società, come lo vedi il futuro del Milan? Il fondo garantisce sicuramente continuità, bisogna vedere a livello di investimenti, sono stati fatti già degli investimenti, 43 milioni a fronte di nessuna cessione, di nessun ricavo, non lo so il Milan cosa possa ancora permettersi per questo mercato. Sicuramente, in realtà dobbiamo pensare qual è l'obiettivo del fondo, sarebbe in teoria quello di migliorare il valore e vendere a meno, però attualmente diciamo che gli investimenti siano... Però mi sembra che attualmente è perso un portiere, è perso un altro portiere che comunque è un portiere importante, ha vinto il campione a Ligan, ma è tutto da verificare, Donnarumma comunque il suo lo faceva. Ci sono anche dei riscatti importanti, c'è stato quello di Tomori, quello di Tonali ancora in dubbio, comunque stanno investendo, secondo me arriveranno ancora a spendere qualcosa, ma non più di tanto, vedremo se questo basterà per rafforzare il Milan, chi invece probabilmente metterà ancora tanti soldi sul mercato a fronte anche di un aumento di capitale, mi sembra di 300 milioni, che è la Juventus, che alla fine si potrà prendersi i Locatelli, potrà forse vendere Cristiano Ronaldo e sistemare un po' i conti per andare a prendere altri giocatori e rifare una squadra competitiva. Non che l'anno scorso non lo fosse, però era sicuramente assembrata male, cioè il centrocampo era inesistente rispetto a quelli passati, c'era Cristiano Ronaldo che faceva la differenza perché segnava sempre lui, ha fatto 100 gol nella Juventus, però comunque la squadra era assembrata male, con un allenatore all'esordio assoluto. Quindi la Juventus in questo momento... Io metterei ancora la Juventus per l'anno prossimo, tra le favorite, perché sicuramente farà un mercato importante, l'Inter, non saprei proprio cosa dire, è stato attuale, è la squadra dell'anno scorso, dunque perché no? Con un allenatore diverso, però comunque un allenatore bravo, un bravo allenatore, potrebbe essere, correre per il posto in Champions, però è tutto da capire come finirà il mercato, perché secondo me oltre a Kimi, che è quasi del PSG, anche Lautaro, anche Lautaro andrà via, e sono due giocatori importanti, che devi sostituire... Scommetteresti un euro sulla partenza di Lautaro? Io penso di sì, perché loro, se riescono a piazzare a Kimi e il PSG, vogliono poi monetizzare, vogliono rientrare, loro l'hanno detto, vogliono fare una plus valente sull'Inter, l'hanno fatto capire chiaramente, loro cedono, ma vogliono guadagnarci, il che non è proprio una cosa bella, insomma, sicuramente i tifosi interisti che ci seguono, sono venuti a mancare gli incassi degli stadi, dei cappellini, delle magliette, l'anno scorso, perché poi l'Inter quando l'hanno acquistato, aveva avuto un trend positivo, di crescita, anche a livello di marketing, merchandising, eccetera, ha cambiato il logo, ha fatto il restyling, ha cambiato il logo, l'inno, la sede, tutte cose che alla fine, non è che si fa vincere, abbiamo vinto, perché è stata costruita una squadra forte, perché c'era un allenatore bravo, che ha tirato fuori il meglio da tutti, e soprattutto, loro che forse si sono dimenticati, la memoria corta, i cinesi, ha rivalutato la rosa dell'Inter al 100%, Barella costava, l'ha pagato 40, ora vale 80, Eriksen, dove solo vende, lo costava molto di più, Lukaku, a 150, l'ha pagato molto meno, cioè, il compito di lavoro di Conte è stato soprattutto questo, ha portato una rosa, l'ha rifatta rivalutare, in alcuni casi è del doppio, alcuni giocatori valgono il doppio rispetto a quando sono stati acquistati. con il groppo in gola di molti tifosi interessi, siamo un po' tifosi interessi, purtroppo, però vabbè, no, perché vedo poca, davvero poca chiarezza, questa è la cosa più che mi rattrista, perché adesso poi Zhang se ne andrà altri sei mesi in Cina, e lascerà le rogne al buon Marotta, che poverino, veramente, sta facendo, è un amico, sta facendo davvero i salti mortali. speriamo ne faccia ancora, magari, vediamo, vediamo la nostra, grazie, grazie Riccardo, grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci, alla prossima con gli approfondimenti del Comizio.it. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti del Comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce.